Allora, Assembly Coding. Era più o meno il 2019-2020 quando con Diego, che ci conosciamo un pochettino, abbiamo cominciato a pensare di provare a organizzare un evento relativo all'Assembly per far riportare un pochettino, per ritornare widescreen, questo linguaggio di programmazione. Ovviamente ci troviamo per pranzo davanti a una birra per parlarne, tutto molto bello, ma siamo arrivati al punto dove ci siamo chiesti perché una persona all'epoca 2020 dovrebbe ricominciare a scrivere in Assembly. È arrivato il Covid, come si ha appena ricordato Seba, ci siamo fermati, ci siamo fermati tutto, quindi siamo fermati anche noi. Tre anni dopo abbiamo ripreso in mano questo piccolo progettino che avevamo e ci sono tornati voglia di riprendere in mano la divulgazione dell'Assembly. Il problema per Arlo stesso, perché una persona dovrebbe scrivere nel 2024 Assembly? Casualmente stavo leggendo proprio in quel periodo un libro che parlava di un esperimento che è stato fatto a metà del secolo scorso, Arlo Puzzle si chiama, Università di Wisconsin, un esperimento nel quale un team di psicologi ha raccolto un gruppetto di scimmie, di piccoli primati, per cercare di capire quale era il driver che spingeva queste scimmie a fare quello che facevano. Quindi hanno preso dei giochi meccanici, dei puzzle, giochi meccanici, li hanno messi vicino a queste scimmie e avevano in programma dei test per stimolare gli animali e capire se erano più interessati a giocare con questi puzzle in cambio di cibo, in cambio di giocattoli. Hanno cercato di capire perché queste scimmie giocano, vogliono giocare con questi puzzle. Subito, appena messi insieme giocattoli e scimmie, le scimmie senza nessuno stimolo esterno hanno cominciato a giocare e risolvere i puzzle. Quindi gli psicologi sono fermati e non hanno capito più niente. Alla fine dell'esperimento hanno capito qual era il driver che li spingeva e adesso ne cercheremo di guidarvi, speriamo, in un percorso molto simile. Molto velocemente, abbiamo poco tempo, chi siamo noi? Io sono Sandro Gulizzaccarini, ho parlato ad ESC un pochino di volte, è un piacere venire qui anche al ventesimo compleanno di ESC. Mi piace rompere le cose aggiustate e aggiustare quelle rotte, quindi mi creo lavoro da solo, praticamente non dormo mai. Diego? Io è la prima volta che vengo qui, appassionato di informatica anch'io, appassionato specialmente di informatica vecchia, lo vedremo più tardi. Grazie per averci accolto qua, al ventesimo. Grazie. Due notte velocissime. La prima è che il talk è molto veloce, non possiamo andare nel dettaglio di tutto quanto. Non diremo in esattezza, speriamo, magari qualche piccola imprecisione, concedetela perché il tempo appunto è poco. La seconda, abbiamo qualche esempio di codice, lo sfondo del codice è chiaro ma usiamo temi scuri. Non vogliamo perdere di credibilità subito, facciamo vedere temi chiari, quindi portate pazienza. Intro velocissima ad Assembly. Un minuto proprio veloce, un Anchorage Course è un intro. Assembly non è un linguaggio di programmazione, è un insieme di istruzioni. Le istruzioni sono principalmente logiche, permettono di sommare, di dividere, di moltiplicare, di spostare pezzi qui e là nella memoria o all'interno del processore. Le istruzioni dipendono dal tipo dell'architettura del processore che usiamo, quindi l'architettura ARM è diversa da Intel che è diversa da tutto quello che ci ruota intorno. È il metodo di scrivere programmi più vicino possibile alla macchina per noi umani, a meno che non sappiate scrivere con 0.1, questo è quel metodo più a basso livello. Ha un piccolo problemino quello che non ha praticamente niente ascrizione, quindi quello che scrivi, scrivi tutto, sempre puoi usare il concetto di funzione in qualche modo ma non sono prettamente funzioni come siamo abituati a usare in altri linguaggi. Un pochino più all'interno come funziona? Ci sono dei registri che sono dei piccoli spazi dentro alla CPU che sono grandi tanto quanto i bit che ha la CPU normalmente e vengono usati in modo o specifico o generico, alcuni sono specifici tipo accumulatore, contatore, in realtà non si è obbligati ad usarli in questo modo ma si chiamano in questo modo perché è una convenzione. Dentro al processore ci sono anche delle flag che sono dei segnalatori che indicano qual è lo stato ad esempio dell'uscita dell'istruzione precedente oppure altre informazioni di questo tipo. I registri col fatto che sono dentro al processore sono super veloci, sono dentro praticamente. L'altro oggetto che possiamo avere come dati dentro quando lo avremo in assembly è la memoria, il codice viene caricato in memoria, il codice del programma viene caricato in memoria quando viene eseguito. Una cosa che è molto utile quando si abusa dell'assembly è il terzo bullet a partire dal basso e il codice non è ridon, io posso modificare il codice, io posso eseguire il codice, posso usarlo come se fossero stringhe. Dopo vediamo un piccolo esempio. Abbiamo una porzione di data vera e proprio che normalmente non è eseguibile ma sono soltanto dati e poi dopo abbiamo due tipi di memoria che può usare un processo che sono stack e ip che vengono utilizzati in modo diverso in base a quello che devi fare. L'ip è quello che si fa con la malloc, anche javas, la odiamo tutti perché usa tantissimo ip, però questo è un altro problema. Un esempio molto molto veloce di assembly preso dal codice C che trovate la vostra sinistra, in alto a sinistra, è un hello world banalissimo, vediamo sulla parte destra in basso l'equivalente delle istruzioni che sono state scritte in C. Quindi la prima parte, le prime due righe, queste fondamentalmente non sono utili, è la parte che viene salvata dalla pseudofunzione di assembly per ricordarsi cosa c'era prima di lei, quindi per tornare dove era prima, la terza riga MOV sposta la stringa hello world, in realtà è un puntatore alla stringa hello world, ma facciamo niente, facciamo niente, lo sposta dentro un registro particolare. La MOV EX0 sposta il valore 0 su un registro che viene usato dalla call alla rega successiva che chiama printf. Questo piccolo pezzettino che vedete in basso a destra, in realtà è questo blocco esadecimale tradotto in istruzioni assembly. Una delle caratteristiche belle dell'assembly su Intel è che da dove parti a leggere puoi costruire istruzioni differenti, quindi quando noi vediamo hello world, il codice esadecimale, qui non abbiamo una stringa però, questo codice esadecimale può essere interpretato come istruzioni diverse partendo da un punto differente dell'assemblato stesso. Quindi rimane abbastanza legibile come codice nonostante sia un pochino più verboso anche di C, vanno chiamate una alla volta tutte le istruzioni. Ok, tutto molto bello, ma noi abbiamo parlato di use case, perché dobbiamo oggi scrivere assembly? Abbiamo visto che già C non è amico di tutti, una riga di C diventano otto di assembly, potremmo avere voglia di scrivere otto riga invece di una. In realtà abbiamo degli use case. Ora li vediamo uno alla volta, più o meno sono questi quelli che abbiamo raccolto e partiamo da quello che in questo momento secondo me è quello meno interessante, ovvero pawned exploit. Pawn, binary exploitation, ha diversi nomi. Cosa significa? Significa abusare di una funzione di un programma alterando il suo comportamento e facendo sì che il programma originale esegua codice invece tuo. Quando si fanno questo tipo di attività, di norma il codice, lo spazio è possibile, lo spazio che si può usare è molto molto poco, non posso caricare un blob java di 4 MB, non ci sarebbe neanche, ma questo è un altro discorso, ho poco spazio e devo farmi abbastare quello spazio. Scrivere assembly molto spesso è l'unico modo, poi l'assembly magari va a caricare altri programmi che sono scritti in altro linguaggio, ma la prima parte deve essere quasi sempre assembly. Lo use case, lo faccio molto veloce perché non ci interessa tantissimo, è uno shellcode molto base, la istruzione push, che qui vedete evidenziata, spinge sullo stack un pezzo di stringa, in questo caso slash sh, scritto al contrario perché lo stack funziona così, spinge slash bin, sempre sullo stack, ok, bin sh, perfetto, componendo la stringa bin sh, che sapete tutti la shell base di Linux, subito dopo con la mov e l'int80 eseguiamo la syscall, che di fatto è un exec bin sh, mettendo questo piccolissimo pezzettino di assembly al posto di un'altra routine dentro un programma, noi abbiamo una shell sul programma. Oggigiorno non funzionano più queste tecniche perché sono tecniche vecchie, ci sono diverse misure di protezione applicate sui programmi che dai compilatori, però è un esempio abbastanza semplice per capire. la ROP la salterei, feci un talk a un ragazzo adesso qualche anno fa, molto carino, magari lo si recupererà, salterei la prima parte, quello che è interessante della ROP è che prendendo pezzi di codice che è già presente nei programmi, possiamo forzare il programma ad eseguire quello che vogliamo noi. Ad esempio, questo è un pezzo di codice scritto, usando nella parte commentata vedete l'istruzione che troviamo a questo indirizzo. Quindi quello che succede è che viene eseguito uno alla volta tutti i passi che vedete commentati, fino ad arrivare all'ultima syscall che fa mprotect, quindi rende rvx, legibile, scrivibile ed eseguibile, un pezzo di memoria. Questa cosa di solito viene usata per caricare uno scelcro più grosso, un binario più grosso, su un'area di memoria che di solito è soltanto scrivibile, renderla eseguibile e eseguire il codice che vogliamo infilare nel flusso. È un'uscase abbastanza specifico, però scomera rimane molto interessante. Il reversing è più lettura, se vogliamo, che scrittura di assembly, ma si parla anche di scrittura. Perché? Perché noi possiamo voler andare a fare patching o fix di binari di cui non abbiamo il sorgente. Prendiamo l'esempio di un software il cui produttore è fallito, abbiamo bisogno di un piccolo fix, non abbiamo altro modo. Decompiliamo, disassembliamo, proviamo a modificare e sistemiamo come si può. Tornando sul blue team, è comune, a parte fare reversing di malware, anche fare reversing delle routine che usano le ransomware gang per fare cifrature di tutti i file. Magari è difficile, però è comune. Facendo reversing si trovano spesso, molto spesso, funzioni e feature non documentate o documentate molto male. Ovviamente decompilare è un use case che vedremo alla fine, è simile al patching e fixing, ma abbiamo un caso molto molto divertente. Allora, parlavamo di sistemare prodotti la cui software house ha chiuso. È ovvio che dovremo tutti usare prodotti supportati da qualcosa o da qualcuno, però capitano esempi in cui non possiamo cambiare prodotto per motivi particolari. In questo caso, se abbiamo bisogno di una piccola patch, possiamo, soprattutto quando il codice sorgente non è disponibile, prendere e decompilare, sistemare e sperare di non aver rotto più cose. Quello lo scopriamo dopo. Se siamo capaci di leggere e di scrivere l'assimile, di capire il flusso del programma, potremmo alterare il comportamento anche in modo permanente. E cito un vecchio detto che è se sai fare reverse engineering, di fatto è tutto open source. Magari un pochino poco amichevole, però è open source. Abbiamo portato un esempio super banale di una licenza come si faceva negli anni 90. Ve lo racconto molto velocemente. La prima parte praticamente carica una stringa, legge un carattere alla volta e compara due caratteri. Se i due caratteri sono uguali, prosegue nel controllo. Se i caratteri sono differenti, esce e dice licenza invalida. Prendendo questa strada. Leggendo questo codice, noi potremmo semplicemente invertire il check o fare direttamente un salto a quel punto e dire al primo carattere per me è tutto bello, passa pure avanti, tranquillo. È un esempio molto banale, però capite che delle volte è molto semplice, cambiando un byte o due byte, saltare completamente un controllo di licenza o non saltare il controllo di licenza, alterare il funzionamento e il flusso di un programma. Relativamente al ransomware, l'anno scorso e quest'anno sono state pubblicate due ricerche molto molto interessanti. da Avast e da SRLabs, due laboratori piuttosto capaci, che hanno abusato di due bug nei cryptor di Akira e Blackbasta, in questi due casi, per scrivere il decifratore senza ovviamente che nessuno dovesse pagare il riscatto. Il problema qual era? Era che usavano male la chiave di cifratura, salvavano un pezzo di chiave e alla fine del file, quindi era possibile dedurre la chiave completa di cifratura avendo il file cifrato. Questa cosa non potevano saperla guardando soltanto il file, perché il file è cifrato, non è comprensibile. Facendo reverse dei ransomware, a loro, che sono molto capaci, è stato evidente questo problema e sono riusciti a risolvere guai in aziende che sono state colpite da questo ransomware. Un altro caso molto molto interessante di Reactos, probabilmente lo conoscete, Reactos è una implementazione open source che è nata a Windows 2003, non è super super stabile, però funziona, in qualche modo funziona. E come è stata fatta? C'è un tipo di persone che disassembla DLL, prende le DLL nel kernel di Microsoft e le spacchetta e documenta quello che ha visto. Un altro team prende i documenti e scrive il C++, in questo caso, relativo a quello che è stato documentato appunto. Potendo decompilare, certo è un lavoro, si perde diverse dioccherie a fare questo tipo di lavoro, però è un lavoro molto molto interessante, perché primo capisce esattamente come funziona quella parte di Windows, quel pezzo di sistema, poi hai modo di riprodurla in modo open, in questo caso totalmente legale, perché non c'è stato un disassembly diretto, ma si è passati per la documentazione. Ok, non è super super stabile, come dicevo, però è un bellissimo esempio di capacità di reverse, analisi, ma anche voglia di fare qualcosa, perché mettersi a fare reversing di Windows ci vuole della voglia. L'ultimo caso che vi dicevo proposto di reversing è Open Dune, allora Dune 2, tutti quanti avete giocato più o meno a Dune 2, uno dei giochi più belli dell'epoca, degli anni 90, e cosa hanno fatto queste persone? Hanno preso Dune 2, hanno scritto un decompiler, che decompila sia statico che runtime, per poter giocare e migliorare l'Open Dune originale. In questo caso è molto molto interessante, perché non hanno scritto direttamente assembly, in manoscritto un programma in C, che analizzando la memoria, il flusso del programma originale, scriveva praticamente assembly. Se avete il codice estrogente, che abbiamo qui, sembra C, ma se leggete di fatto sono chiamate assembly. Questo fa una pop, quindi prende un pezzo e lo mette su un registro, e questo qua fa una chiamata di sistema, quindi è C, però in realtà è assembly, è assembly una scartola C. Ok, Open Dune 2 sono giochi. Allora, Dune è un gioco, quindi sono questioni ludiche, e può essere discutibile il fatto che qualcuno voglia perdere il tempo, che sia importante farlo, se no. Quello che è importante nel caso di Open Dune è il concetto, io posso prendere un binario vecchio, che funziona su, quello era DOS, ma qualsiasi architettura, scrivere un decompilatore che riscrive l'assembly per quella architettura, ed averlo moderno e poterlo sistemare. Considerate che il codice era talmente di qualità, questo suo Open Dune, che hanno potuto aggiungere il multiplayer su network, hanno sistemato dei problemi del gioco, non era il sorgente originale, ma era abbastanza vicino da poter essere sistemato e lavorato come un... L'altro use case sono le high performances. Ci sono alcuni casi in cui non è possibile fare upgrade hardware, non si parla di server moderni ovviamente, si parla di altre cose, come ad esempio le console di gioco. Non si può cambiare l'hardware perché è quello, non si può aggiornare a RAM, non si può cambiare il processore, si può migliorare il gioco in modo che giri più veloce per quell'hardware. Microcontroller ovviamente direi che non ci sia niente da dire, c'è poco spazio, poche risorse, va fatto quello che si può con quello che si ha, qui non c'è niente da dire. Due casi secondo me molto molto belli di high performances sono Age of Empires, lo sviluppatore originale di Age of Empires, disse che per disegnare gli sprite ha scritto 13.000 righe di codici in assembly, che non sono poche. Questo però ha portato a un per 10 delle performance nella generazione degli sprite. Quindi per l'hardware dell'epoca è un risultato della madonna, si poteva giocare davvero, infatti se vi ricordate anche Age of Empires era fluido mentre si giocava rispetto a tanti altri giochi simili. Rollercoaster Tycoon era scritto 99% in assembly, anche questo è un'altra persona, probabilmente ha qualche problema. L'1% in C, 99% in assembly. Ha fatto sicuramente il lavoro della madonna, ma i risultati si vedono. Certo i compilatori di adesso fanno lavoro differente rispetto ai compilatori di 25 anni fa, però è un esercizio della madonna questo, è un gioco che ancora adesso è giocabile, a differenza di tanti giochi simili usciti nell'epoca. Un altro use case molto molto bello che ho fatto copia e incolla dal blog è ColibriOS. Allora ColibriOS è un sistema operativo scritto totalmente in FASM, tutto. Non c'è una riga in Nientalpro, tutto FASM, completamente. Secondo me sono parte scriteriati, poi ognuno la sera a casa solo fa quello che vuole, però anche questo è un esercizio, secondo me, della madonna. Questo è un fork in realtà di un altro progetto, però questo è un dettaglio che ci interessa relativamente. Considerate che è un sistema operativo con la parte grafica anche, supporta file system moderni, supporta NTFS ad esempio, funziona. Non è un proof of concept per far vedere che puoi fare qualcosa, è usabile. task specifici, ovviamente ci sono alcuni tipi di task per cui l'assembly è ancora molto più veloce anche del CIR, nonostante i compilatori. Abbiamo portato un esempio, vi faccio la light subito delle righe interessanti. Queste parti indicate per le due righe grosse sono state riscritte in assembly e l'assembly per un'operazione così banale, sono alla fine una moltiplicazione, se ricordo bene, era? No, è un riempimento di un buffer con un buffer. Riempimento di buffer, giusto, lo stavo leggendo. La routine assembly è 32% più veloce, quindi ci mette 15 secondi meno rispetto ai 46 originali. è un caso specifico ma è nettamente più veloce. Chiaro, se abbiamo 8 core che non fanno niente, non ci interessa, ma se abbiamo un microcontroller, questa cosa qua ci può salvare la giornata. Su un compilato o due, questo per essere precisi. Quindi su un compilato ottimizzato. Grazie. Task specifici abbiamo anche, ad esempio il salto da Real Mode a Protective Mode sulle architetture moderne, quindi quello che ci permette di usare tutta la RAM che abbiamo banalmente, e questo non deve più scriverlo nessuno perché è già stato scritto nei sistemi operativi, però è un piccolo pezzo di assembly che ci consente di usare tutta la RAM. Gli emulatori sono un altro caso molto molto interessante per scrivere assembly. Qui abbiamo citato l'esempio di un emulatore per Nintendo DS, completamente in assembly. Emulatore che ovviamente è in grado di eseguire i giochi nativi all'interno di essa, altrimenti non avrebbe senso emulare. Ok, lascerei. Fatemi avventi. Allora, abbiamo visto un po' di use case. L'idea adesso è di farvi vedere un po' di uso creativo dell'assembly. Se ricordate le immagini che vi ha fatto vedere prima Guli, le scimmiette hanno iniziato a giocare con quello che avevano davanti. L'idea è farvi vedere cosa vuol dire, cosa si può fare appunto con l'assembly direttamente con del codice e farvi vedere che le regole che posso avervi insegnato chiaramente sulla programmazione strutturata sostanzialmente saltano perché c'è molta più libertà. Si può fare un po' quello che si vuole. Allora, prima di partire con le demo vi faccio un attimo vedere qual è la piattaforma sulla quale stiamo facendo girare. Immagino che molti di voi lo conoscono, ho visto un po' di magliette girare oggi. E poi ci sono un po' di capelli brizzolati come i miei, quindi c'è gente che lo conosce. La macchina è il Commodore 64, è una macchina con 65.000 byte di RAM, poco più. È una macchina che ha 16 colori nel video, una CPU che va a un po' meno di 1 MHz, ha un integrato audio di cui non parleremo comunque oggi ed è a 8 bit che significa che è in grado di gestire delle parole. Ogni volta che si agisce su un dato il dato è a 8 bit. Per poter capire meglio alcuni passi dei codici che vedremo ho bisogno che capiate un po' il fatto che la durata di alcune istruzioni, la durata in generale delle istruzioni è differente. Cosa significa? Significa che la CPU del 64, che è un 65.02, gira a 1 MHz, però le istruzioni richiedono più cicli per essere eseguite. In particolare, il numero minimo di cicli per eseguire un'istruzione è 2, con il quale posso ad esempio caricare un valore nell'accumulatore, poi vedremo cos'è l'accumulatore, oppure posso aggiungere un valore all'accumulatore, posso cambiare il valore di un flag, i flag quelli di cui aveva parlato Guli prima. 3 cicli servono per caricare un dato dalla memoria, da certe zone di memoria, 4 per caricarlo da altre zone di memoria, e così via, 5, 6, 7, il massimo numero di cicli che può essere chiesto dalla macchina per eseguire un'istruzione è 8. In realtà poi c'è anche la generazione di interruzioni che può richiederne 9, ma non la vedremo oggi. Vi faccio presente una cosa, il numero di istruzioni che ha il 64 ufficiali è più o meno 150, grosso modo. In realtà il numero va esteso perché il 6502 che ha l'integrato di cui stiamo parlando è un integrato molto semplice e quindi in sostanza anche le combinazioni numeriche che in teoria non dovevano dar luogo a nessuna istruzione in realtà sono utilizzabili e hanno un comportamento che negli anni è stato studiato e è stato visto che è deterministico e quindi si è riuscite a utilizzarle per fare delle cose in più in sostanza. Anche se diciamo che da fabbrica non erano documentate in sostanza, infatti si chiamano non ufficiali, illegali, undocumented come si vuole. In particolare una di quelle che richiedono otto cicli in effetti è un'istruzione non documentata. Ha alcuni dettagli sullo schermo sono necessari altrimenti non si capisce non si capiscono le demo. La sostanza è che a governare il clock del 64 in realtà è il video. È una cosa un po' strana. Il video gira a 8 MHz a un quello che si chiama un dot clock cioè il clock con cui genera ogni pixel è a 8 MHz. Viene diviso per 8 e da questo si ottiene il MHz che fa girare la CPU. Questo ha un cioè questa cosa risulta nel fatto che la CPU di fatto è sincronizzata in qualche maniera con il video nel senso che ogni 8 pixel di fatto ha la generazione di un clock della macchina. Quindi ho una forma di sincronizzazione di fatto per una macchina PAL se vi ricordate c'erano i back standard NTSC PAL in questo caso parliamo di una macchina PAL per una macchina PAL ho 63 cicli lungo una linea orizzontale ho 312 linee in cui mi vengono eseguiti quindi ho un totale per un frame di circa 19.000 cicli sono 19.600 moltiplicati per 50 se fate il conto viene fuori poco meno del MHz della macchina. Ok adesso chiedo a Sandro invece di farmi la palletta intanto vi do qualche informazione sulla demo quello che vedremo adesso è un'animazione uno scroller sostanzialmente nel quale non sto utilizzando il frame buffer del computer cioè non sto scrivendo nello schermo ok ma sto cambiando in maniera sincrona il colore dello sfondo ok quindi quello che vedete lì in gergo per chi programma il Commodore 64 si chiama Raster Split sono dei cambi di colore perfettamente in sincrono con il cannone video che permettono di creare un'immagine e tra l'altro ad esempio permettono chiaramente di superare il limite dei bordi avevate visto che prima c'era un bordo normalmente il bordo non è una zona in cui si possa disegnare però chiaramente se sto cambiando solamente il colore posso cambiarlo in qualsiasi punto e quindi quello che deve passare in questo preciso demo è il fatto che per fare questo tipo di animazione bisogna che il codice sia perfettamente sincronizzato con il video altrimenti l'immagine balla c'ha jittering chiaramente ci sarebbe anche un po' di musica sotto ma non importa vi faccio notare una cosa la dimensione in orizzontale la dimensione dei pixel diciamo chiamiamoli così orizzontali è legata alla durata minima delle istruzioni non posso fare più stretti i pixel in questa immagine perché quello che sto facendo in ogni in ogni blocchetto orizzontale è di cambiare di cambiare colore poi ricambiarlo nuovamente cambiarlo nuovamente e così via e quindi il limite è di 4 cicli io non posso cambiare colore in meno di 4 cicli e quindi ho quella dimensione orizzontale lì questo invece non vale per il verticale il verticale posso cambiare colore quante volte voglio ok stop allora vediamo un po' un po' di pezzi un attimo solo un po' di pezzi del codice per capire cosa sta cosa sta succedendo e che tipo di uso si fa del sembrativo per ottenere quello che vogliamo allora come vi ho detto per riuscire a ottenere quell'effetto lì ho bisogno che il codice sia perfettamente in sincrono con lo schermo altrimenti altrimenti balla tutto l'immagine si muove chiaramente ma non ha una stabilità che è quello che invece voglio ottenere quindi la prima cosa che devo fare e aggiungo un'altra cosa chiaramente vi ho detto che il clock del processore è perfettamente in linea è in sincrono con il clock del video diviso per 8 però è anche vero che ogni istruzione occupa un numero di cicli che è casuale quindi io il momento in cui comincio a cambiare colore potrebbe avvenire in qualsiasi punto dello schermo quello che ho bisogno è di posizionarmi perfettamente all'inizio di una linea di una linea dello schermo e da lì cominciare a cambiare il colore in maniera programmata in sostanza quindi quello che devo fare è far partire un ciclo di 62 cicli un ciclo che mi occupa esattamente di 62 cicli così prima o poi questo ciclo tendenzialmente in pochi cicli ma può metterci anche del tempo non importa mi arriva a essere perfettamente in sincrono perché chiaramente se sono partito che ero 10 cicli e toccato avanti ci metterò 10 cicli a perderli quei 10 cicli che avevo in eccesso se invece parto che ne ho uno solo ci metto solo una linea a recuperarlo quando arriverò a cambiare a cambiare linea esattamente in sincrono con il video a quel punto posso far partire un timer perché faccio partire un timer perché questa operazione la faccio una volta sola in tutto il programma e mi serve per creare un timer con il quale gestirò il jittering più avanti questa parte qua viene fatta nella parte di inizializzazione dopodiché un timer a decremento che mi conta 9 cicli mi permetterà di saltare il jittering di sistemare il jittering in tutte le altre chiamate che faccio per disegnare lo schermo questo è un altro esempio invece sempre di cycle counting come quello di prima non è quello che non è quello che le palline colorate pace abbiamo fatto forse un po' di confusione con le slide avevo delle palline colorate che vedevano un po' più semplice la lettura ma non importa allora qua il concetto è che devo cambiare i colori dello schermo ma devo mantenermi sui 63 cicli di ogni linea altrimenti o sforo che passo alla linea successiva oppure non ho ancora finito la linea precedente quindi ogni linea che disegno deve occuparmi esattamente 63 cicli quindi il giochino che si fa in gergo viene chiamato cycle counting cioè mi metto a contare tutti i cicli a prescindere dal giro dovuto ai salti condizionali quindi se fate il conto adesso purtroppo ripeto c'erano dei pallini a rappresentarla questa cosa qua comunque il concetto è che se io parto da qua da qua sopra che è l'inizio del loop e faccio il giro che mi utilizza per esempio tutti i salti condizionati che sono questi qui i BNE i BCC tutte le istruzioni che iniziano con la B come queste qua sono salti condizionati quindi sono punti in cui il codice può andare in un punto oppure in un altro oppure continuare sotto a prescindere dal fatto che salti o che non salti questo loop qua che mi finisce che mi finisce dove è? oddio che mi finisce qua sotto esatto mi occupa comunque 63 cicli ok in questa maniera sono sicuro che sto sempre dentro ai 63 cicli delle linee questa cosa qua la vediamo meglio tra un attimo quando vediamo il loop interno ok questo questo qui è un esempio che ha diverse cose dentro allora intanto qua è molto più semplice capire il concetto che spiegavo un attimo fa questo qui è la parte più interna dell'effetto ed è quello che disegna i raster split di 020 chiaramente avrete immaginato è la porta la porta di IO che mi comanda il colore di sfondo ok quindi quello che sto facendo qua scusate è cambiare colore è cambiare colore ogni 5 all'inizio e poi ogni 4 cicli vedete perché queste istruzioni qua STX STY SAX eccetera sono tutte istruzioni che occupano il processore 4 cicli cosa viene fatto di fatto all'interno del programma io questa routine qua non ce l'ho prefabbricata me la creo ad ogni frame ad ogni frame io vado a cambiare l'istruzione con la quale salvo in D020 e a seconda che sia una STA una STX una STY oppure una SAX cambio il colore di quel pixel quindi ho di fatto 4 colori e io sto cambiando colore cambiando il codice ricordate quando prima abbiamo detto che il codice può essere anche modificato al volo questo è un caso d'uso sto cambiando il colore dei pixel non cambiando le variabili che assegno ma cambiando l'istruzione il valore è presalvato in ciascun registro e perché faccio così perché altrimenti dovrei cambiare ogni volta il valore di questi registri e chiaramente mi porterebbe via del tempo non riuscirei a fare dei pixel così piccoli avrei dei pixel da 6 cicli o da 8 insomma comunque avrei più grossi altra cosa Sandro prima vi ha parlato della ROP questo qua è un esempio anche di ROP perché il disegno di ogni linea alla fine ha una RTS RTS significa return to subruten vuol dire torna indietro è la return classica quindi vuol dire che quando ho finito una linea io vado nello stack della macchina pesco l'indirizzo il prossimo indirizzo che c'è nello stack e salto a quell'indirizzo lì quindi significa che disegno in orizzontale come abbiamo detto cambiando le istruzioni che ho in queste linee qua e disegno in verticale cioè scelgo quale linea mettere in base agli indirizzi che vado a mettere nello stack quindi io compongo l'immagine in parte agendo su del codice in parte agendo sugli indirizzi di ritorno che metto nello stack è un uso totalmente creativo capito è una cosa di norma non si va a mettere nello stack non si fanno di queste cose qua in C chiaramente non lo fai mai ultimissima cosa anche qui ho un utilizzo di un'istruzione che è non documentata in questo caso è SAX SAX per curiosità prende il valore del registro A e il valore del registro X fa una end logica tra i due valori e li salva nell'indirizzo indicato lì e quindi chiaramente giocando sul fatto che fa una end se metto un valore in X metto un altro valore in A ho due valori diversi quando faccio una end ho un terzo valore che chiaramente è dipendente da quei due lì però comunque mi riesce a creare un colore differente nello schermo a questo punto vediamo un'altra demo in questo caso quello che vogliamo evidenziare invece è il size coding quindi il codice piccolo ok in questo caso è una implementazione di arcanoide molto piccola fatta con i caratteri classici del 64 il PET-C che è grande 506 byte un po' di caratteristiche del gioco la piattaforma chiaramente può essere mossa con il joystick in basso a sinistra abbiamo l'indicazione delle vite i blocchi sono di due tipi come vedete ci sono blocchi che si rompono con un colpo solo e blocchi che hanno bisogno di due colpi per essere lotti adesso non facciamo in tempo perché altrimenti bisognerebbe poi perché siccome Google non è abbastanza bravo bisognerebbe passare bisognerebbe passare al secondo livello perché comunque c'è anche una gestione dei livelli è possibile rompendo tutto il muro passare al livello successivo e in quel caso ciascun blocco del muro ciascun mattoncino è grande la metà quindi chiaramente aumenta il livello di difficoltà perché ho molti più pezzi da distruggere 506 506 se è la dimensione uno potrebbe dire potrei farlo 512 che è abbastanza tondo per un informatico 506 è un numero abbastanza tondo per il mondo Commodore perché la dimensione dei blocchi del disco del 64 è 254 byte quindi in 508 byte ci sto poi avevi due byte li abbiamo levati perché erano di troppo nel senso che potevamo anche lasciarli però comunque sia la cosa carina che sta dentro a due blocchi del disco del 64 allora un po' un po' di esempi ancora di codice di codice assembly allora per riuscire a disegnare i vari pezzi che compongono il gioco serve trovare i punti memorie in cui andare a scrivere gli oggetti chiaramente mi muovo con delle coordinate x e y all'interno dello schermo lo schermo del 64 non l'ho detto prima ma comunque sono 40 colonne e 25 righe e quindi la cosa che devo fare è moltiplicare per 40 l'assembly del 64 il 65.02 non supporta la moltiplicazione non ce l'ha quindi devo arrangiarmi con quello che ho potrei crearmi un algoritmo di moltiplicazione generico binario ma non ha senso io ho bisogno solamente di moltiplicare per 40 e quindi faccio esattamente quello che mi serve quella ASL moltiplica per 2 la seconda ASL moltiplica per 4 aggiungo il valore che vuol dire moltiplicare per 5 torno a fare una ASL che è ancora una shift a sinistra e quindi moltiplico per 20 e per 10 lo faccio ancora e a quel punto moltiplico per 20 poi ho un piccolo ciclo che mi permette di fare sia il 20 sia il 40 la cosa interessante è che per evitare di scrivere un byte in più ho messo un ciclo che è basato sul bit più alto che ho messo dentro all'accumulatore tanto quello lì mi va perso ok e mi serve come stop su quella BCS cioè salto continuo finché quel bit lì non mi salta fuori ok questo è un altro esempio di uscita dai cicli utilizzando i bit che sono dentro alle parole salvate in memoria in questo caso utilizziamo writer che è una variabile è una variabile dentro la quale sto mettendo un indirizzo cioè costruisco un indirizzo che mi servirà più avanti però col fatto che le sto facendo fare un roll che è una rotazione a sinistra alcuni bit li vado a perdere mi conviene utilizzarli nel senso li posso utilizzare come stop al ciclo anche in questo caso quindi vado a mettere un bit alto lo vedete su vado a mettere un bit sul bit 7 quello più alto di writer in maniera tale che il primo giro me lo faccia perché roll mi fa uscire il bit a 1 me lo fa uscire sul carry bcs che è branch se carry è set mi continua il ciclo il secondo giro quel bit lì non c'è più e quindi a quel punto posso continuare la sequenza di istruzioni che segue anche qui questa è la parte di routine che serve a determinare il movimento della barra quindi quello che vado a fare è leggere il joystick il joystick chiaramente è una porta lì in alto a destra vedete il significato dei vari bit chiaramente salto i primi due perché non mi servono up and down a me non serve lsr per la cronaca significa shift a destra ok logical shift right down e up non mi servono li butto via scendo il terzo bit invece mi serve il left vi assicuro che l'altra era corretta questa qui è quella sbagliata purtroppo questo doveva essere bar left e questo doveva essere bar right comunque sia fidatevi questo qua è il movimento a sinistra se il bit invece è settato allora controllo il movimento a destra se non c'è nulla schippo e salto via la cosa interessante di questa routine qua è che se sto muovendo a sinistra e quindi sono se sto muovendo a destra scusatemi perché ripeto è al contrario questa parte qua sto muovendo a destra e sono qua aumento di due posizioni il movimento a destra e poi lo abbasso di una qua sotto gliene levo una in meno tale che di fatto ho spostato solamente di una posizione a destra in questa maniera evito di aggiungere del codice di skip ulteriore qua sotto e allungare ulteriormente il codice purtroppo questa slide qua ripeto non è corretta quindi è un po' faticoso spiegarvela ok l'LFSR quando si programma su macchine di questo genere non solo il 64 ma anche in realtà anche certi microcontrollori o altre macchine di questo genere uno dei problemi è la generazione di numeri casuali oppure la generazione di pattern allora nel 64 ad esempio uno dei metodi che si utilizzano ad esempio è sfruttare l'integrato audio perché tra le cose che fa chiaramente fa anche la generazione di rumore bianco che è sufficientemente casuale per essere utilizzato all'interno ad esempio di giochi o cose di questo genere in questo caso visto che il codice è molto molto contenuto in termini di dimensione non c'è lo spazio per inizializzare tutto quanto la generazione di audio e creare un'onda di rumore bianco quindi quello che si fa tipicamente è un LFSR in pratica è utilizzare lo shift e le ore l'ore esclusivo per creare o dei pattern oppure dei numeri randomici la cosa interessante di questo meccanismo qua è che è lo stesso in realtà utilizzato all'interno di molti integrati audio di quell'epoca per creare il rumore bianco stesso il rumore bianco era creato con degli LFSR più grossi di questo tipicamente da 24 o anche da 32 bit nei quali venivano infilati in maniera fissa dei bit a 1 oppure dei bit a 0 venivano invertiti shiftati come succede in questo caso qua e questo creava a seconda di dove venivano appunto inseriti i bit delle combinazioni abbastanza casuali di numeri che poi venivano chiaramente mandate verso l'interfaccia di output dell'integrato audio e generavano rumore bianco vediamo anche questo che è l'utilizzo dello stack pointer allora cos'è lo stack pointer intanto uno dei registri che tutti le CPU hanno si chiama stack pointer ed è il registro che punta alla posizione attuale della struttura che si chiama stack lo stack se vi ricordate l'abbiamo visto anche un attimo fa è quella struttura in cui posso è una struttura lifo in cui posso inserire una sì una lifo insomma in cui posso inserire o rimuovere rimuovere dati una pila ecco non mi viene la prova scusate è una pila sostanzialmente lo stack pointer è fondamentale perché mi rappresenta il puntatore attuale in questo momento al punto in cui è lo stack attuale quindi da dove prendere i dati alla prossima operazione sullo stack se lo cambio ed ho una struttura ed ho un programma che è complesso che ha fatto chiamate a subroutine o cose di questo genere mi salta tutto perché non sa più a che subroutine ritornare dal momento che questo programma qua questo pezzo di codice qua ce l'ha nel suo main il main non ha il problema di sporcare lo stack perché non deve tornare indietro a qualcun altro non deve fare un ritorno su subroutine verso qualcun altro il main è il main non si potrà mai arrivare a un livello inferiore del main e quindi posso utilizzare lo stack pointer per fare quello che voglio in questo caso lo uso come un qualsiasi registro salvo un'informazione che la sopra è ff che è 255 per via del codice che precede questa parte qua dopodiché a seconda di come va questo loop qua o mi rimane ff oppure mi viene salvato 0 oppure 1 quando poi arrivo qua sotto ritrasferisco il valore dello stack pointer in x e guardo bpl guardo se il bit di segno che è l'ultimo bit di qualsiasi variabile che inserisco è a 1 o è a 0 bpl mi dice salta se il bit di segno è a 0 quindi in questa maniera utilizzando abusando diciamo dello stack pointer mi sono portato via una condizione qua sotto mi sono portato via un'informazione che mi serve per determinare la condizione qua sotto e questo è quanto insomma allora torniamo alle nostre scimmiette si eravamo lasciati parlando di per quale motivo una persona dovrebbe nel 2024 quasi 25 ricominciare a scrivere rassemble abbiamo visto diverse use case alcuni discutibili alcuni più interessanti alcuni meno questo va sempre a gusti quello che secondo me spero abbiate secondo me doveva passare da questo talk era che la performance stessa è il reward del task il fatto che stiamo facendo una cosa in questo modo così specifico così preciso così verticale è perfetto già quello è il reward non mi viene in mente in italiano come si dice ma fa niente la ricompensa grazie questo è stato il risultato di cui sono arrivati gli psicologi che si è nato inizio talk 70 di fa grosso modo non hanno dovuto insegnare niente agli scimmie perché le scimmie si divertivano a giocare non avevano altro da fare giocavano si divertivano questo è stato la chiusura dell'esperimento food to go ogni talk deve finire con qualcosa che speriamo vi portiate a casa se pensate che qualcosa sia un po' folle probabilmente qualcuno l'ha già fatto e come nel caso di del sito operativo completamente in assembly qualcuno molto apparentemente lo forcherà per fare una sua versione diversa migliore peggiore ma diversa se pensate che qualcosa sia rotto inutile sbagliato in qualche modo o avete paura che qualcuno usandolo trovi le bug dei problemi pubblicatelo perché sicuro vi arriverà una assenazione di bug e problemi questo significa che qualcuno l'ha usato qualcuno ha interesse a usare quello che avete fatto che non savate fosse inutile se pensate venendo tutti questi piccoli pezzettini di lego che si aiutano a costruire programmi a basso livello se pensate di riuscire di volere tornare a divertirvi come cono se era piccolino e si giocava con il lego venite con noi abbiamo biscotti col cioccolato aggiungeteci eccoci qua domande qualcuno qualche domanda su questo talk no quindi un applauso a Diego e Sandro Guli grazie grazie mille grazie mille grazie mille